Salve a tutti ragazzi e benvenuto a questa nuova tutta l'amore di Vistegangelo Squirrels Lo scorso episodio avevamo salvato i Magnemite che essi erano che essi erano incollati e attrati con il Magneto erano sferduti in quel punto Cosa è oggi ragazzi? Continua Con questa scuola Molto buone Sto andando a me Non capisco che cosa sta dicendo? Qua è tremato tutto Sto andando a più Sto andando a me Sto andando a me Sto andando a me E' realistico Un attino dopo Sto andando a me Ehm C'è qualcuno? Tu sei Alex Vero? Oh Non puoi vederci Non è carino da parte nostra Fu Fu So Oh dai Scanti Ehm E' una cavaglia potentata Ma è attenzione Io del tuo aiuto Un attimo Un attimo Ok Ehm Perché dovresti dire di no Se sei E' il membro di una squadra Quai non è nessere Ti avete il tuo lavoro Ehm Questo è il mio E' quello che E' il mio VEGACHU Ma tu Alex Eh? Ma che sta aiutando qualcuno? E tu? 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 Oh che chiaro Andiamo Ok Adesso Arrivederlo Grazie a tutti Cacchio Beh prima un ben amato Oh cacchio Monte Raba 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 POM 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 Che. POM 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 I mor Aku in this room POM 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 Sì, non so se così, ho usato questa tensione. Sì, non so se, non so se, non so se, non so se, non so se. Non so se, 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 non so se VIG! Vediamo! Ci vediamo qua! Ehm... Qua! Siamo! E' un piano sede E' un piano sede E' un piano sede E' un piano sede Siete lì Tra l'altro E' un piano sede No! Mi ha sprecato Mi ha sembrato No! Mi ha sprecato No! Mi ha sprecato Mi ha sprecato Perché mi ha sprecato Perché mi ha sprecato Non siamo evitati Beh, ci siamo ragazzi Ponte acciaio Piano 9 Dai! Ecco Diglett Ehi! Sta bene siamo qui per salvare Ehi! 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 Cosa ci fate qui? Dio! La mia voce sembra La più stupida Che nella speciale E' di Mystery Dunn Ed è tutto un Dio Ho qui questa Vaglia Diglett Scarma Non fare così Libera Diglett Casi usate? La colpa loro! Siamo i giorni i giorni Dovrei stare dentro Ma se un tipo volante Ok Sempre meglio dello special di Mystery Dunn Sempre Gio! SATE! O GLI IDIOTTI! Non ti lo farò mai Intanto in questo mare Occhio che ne vanno tutti I colori sotto gamba Non è vero Non è che? Non sono tutti Ma non è certo Ma mia iglett Fa un po' di bandone Che voti Adesso siete tutti A parte che non sono Mossa a telemetto HALA MASTA Tagliammi a lottare Sarei Mi scarma è troppo agitata Le ragionate Qui Non si vede anche dalla voce che sta Va facendo il nostro Nostro giocatore Battute sulla quarta VARETE Dovremmo lottare RECO POS Sarei Eeeh Io Voglio metterlo Ragazzi Io Io Ho 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 non ti curano prima della battaglia ah già finito si però davvero non ti curano la battaglia quindi devi sempre portarti qualche baccarancia e in più soltanto per curarti all'inizio del boss questa cosa lancia lancia e se ne va ehi abbiamo scacciato scarmoli vieni qui che passa che non temere aspetta mi piace quando tipo fanno i scaldi con la faccia da una chilla è come se è tipo quel meme del caglione così in una casa in fiamme che dice ah va bene oh guarda il precipizio non vai dal fondo Alex come ho ciò non possiamo attraversarlo Pagli mate non sei mai come date informati noi noi non vedi paura noi ti parliamo a prendere la scuola anche perchè senti potere no no questi giochi i tipi che erano sono semplicemente resistenti a tipo le pro non 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 no non a pensare! Cosa c'è che faccio? Non... Tutti i beni che ci hanno fatto un tigletismo a pensare! Chiedi? C'è la mia macchina? No, secondo i giochi in 3D E' un po' Visto che tipo Non si può considerare Visto che tipo quando si muove Ho quella cosa interina Dai, sono morti Che basta Ma deve essere assicuro Che ti capisco E' un po' E' un po' Ma basta E' un po' 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 ... Ma siete E' un po' Ora stai spesso un po' e' 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 un po' l'e' un po' pc Al popolo dicano che ponveno... ... ma sarne canna zzzzzza compruire prendo me seg'lla預vo che erbeziche prarare ... prendo... ...le cheai... ... condono Ha detto, adesso come quando dicevo. ma io non gli andiamo a... Aspettate, non andate via! Che gente! Vita mia! La squadra... Questa squadra... 100 magni, ma... Non ho visto così... Le azioni... Vedete Alex? Come ti ho letto il tipo... Toggo acciaio completamente inutile! Utile senza contare che loro impari Non lo so, non lo so... Non lo so, non lo so... Allora, io sono inutile! Si, 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 si... Faccio, come me... Vuh, vuh! Ah! Sarebbe solo... Un posto! Un posto è stato il premio general! Se ne andiamo in lavoro! Vabbè... Non lo so, non c'è più un posto! Venga... Un posto è un posto! 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 Ragazzi non ci ho pensato prima! Un piazzone! Ora si chiama Club Wigglytuff! Non penso sia lo stesso Wigglytuff della tecnologia degli scuola! Un posto è un regolito! Gio counter è un posto! Un seoi cat! Sei dalla baldecaтиров'? Usa la barba too fiumicido! Una oltreta fiumicidabile! E' questo che si chiama la Club Ubiquita Quindi, se non è utile Siamo nella mia piazza Pokémon E lo faremo nella prossima settimana Perché il video vi segue vi ricordo di commentare Iscrivetevi se non ho fatto E vi lasciate un mi piace E se il video vi è piaciuto Qui da adesso se ne è qui tutto Il video è finito, andate in pace Buon Youtube a tutti! Grazie